Albrecht Dürer fu uno dei più importanti artisti nascimentali tedeschi. Si occupò, nel corso della sua carriera, di molteplici discipline, dalla pittura all'incisione, mostrando sempre un grande talento e una profonda spiritualità. Dürer nacque a Norimberga nel 1471 da un oro fungerese di origine tedesca, il quale gli trasmise la passione per l'arte e in particolar modo per lo stile fiammingo, nonché per primo lo accolse nella sua bottega. In quell'epoca, Norimberga era fiorente proprio grazie alle numerose orificerie come quella paterna. In seguito, l'economia della città sarà sostenuta dalla nascente industria tipografica. Dopo circa tre anni passati nella bottega del padre, Dürer passò a quella del rinomato Volgemuth, maestro di cui conserveva sempre uno splendido ricordo. Il primo lavoro compiuto che ci è pervenuto risale proprio a questo periodo. L'autoritratto ha tredici anni. Opera caratterizzata dall'uso della complessa tecnica del disegno a punta d'accento. Essa va ricordata inoltre per essere stata il primo autoritratto nella storia europea ideato come opera a sé stante. Nel 1490, l'apprendistato dal Volgemuth si concluse. Sono probabilmente da identificarsi come saggio dell'esame finale dell'apprendistato i due ritratti dei genitori, oggi conservati separatamente. Le tonalità di colore del loro vestiario risultano complementari. Scure per il capotto e copri il capo del padre, luminose per la canida cuffia e la rossa veste della madre. È da notare inoltre, in entrambi i dipinti, il rosario e i grani rossi, testimonianza della fede del pittore. In seguito al matrimonio, Dürer viaggiò per un anno in Italia, dove poteva entrare in contatto con la filosofia neoplatonica. In quel periodo, si interessò molto anche alle vicende mitologiche, come la morte di Orfeo. Tornato quindi a Norimberg, aprì la sua bottega. Appartengono proprio a questo periodo le sue opere xilografiche più importanti. Per l'Apocalisse, composta da 15 xilografie diverse, Dürer scelse un grandioso formato verticale, allontanandosi da un modello biblico che contemplava figure di piccole dimensioni. Mai prima d'allora questo tema era stato rappresentato con una così grande drammaticità. Tale risultato fu ottenuto grazie al fortissimo contrasto fra il bianco e il nero e alla corporeità delle figure, ottenuta con un sistema graduale di tratteggi. La xilografia più celebre di questo ciclo è senz'altro quella che raffigura i quattro cavalieri dell'Apocalisse, ciascuno rappresentato nei minimi dettagli e differenziato dagli altri nell'aspetto. Nel 1500, Dürer è dunque già ormai un artista maturo e affermato. Risale proprio a quell'anno uno dei suoi dipinti più celebri in assoluto, l'autoritratto con pelliccia. L'abile padronanza della luce non solo gli permette di esprimere la luminosità degli occhi, nonché della folta pelliccia che cinge il cappotto dal morbido panneggio, ma mette anche in forte risalto i lunghi riccioli del pittore. È inoltre importante riflettere sulla posizione frontale della figura, schema lontano dalla raffigurazione a tre quarti fiamminga, ma ben più simile a quello utilizzato nel Medioevo per la rappresentazione di Cristo. Questo è un chiave riferimento al neoplatonismo, giacché esso sosteneva che l'uomo non solo era stato creato ad immagine e somiglianza di Dio esteriormente, ma anche intellettualmente. Per quanto riguarda invece l'arte sacra, risale sempre al 1500 la famosissima pala Palmgartner, commissionatagli dall'omonima famiglia per la chiesa di Santa Caterina di Norimberga. La pala centrale, che raffigura le adorazioni nei confronti di Gesù Bambino, è senz'altro caratterizzata dalla fortissima influenza fiamminga, in particolare per quanto riguarda l'attenzione ai dettagli con cui sono rappresentati i membri della famiglia, disposti in preghiera attorno a Gesù. Seppur le strutture architettoniche, generatrici di ombre secondarie, possano far intuire delle linee di fuga, manca una vera raffigurazione spaziale coerente. Ciò è particolarmente evidente dalla sproporzione fra le dimensioni dei protagonisti e quelle dei devoti. Le palle laterali raffigurano invece, su sfondo scuro e a figura intera, i santi Giorgio ed Eustacchio, presentati come lanzichenecchi rinascimentali, dall'abbigliamento raffinato dal colore acceso. I volti dei santi, dallo sguardo nobile fiero, appatenevano in realtà ai fratelli Stefano e Lucas, della famiglia Palm Gartner. Tornato nel 1505 per la seconda volta nel bel paese, Dürer realizzò il celebre ritratto di giovane veneziana, che, secondo la tradizione, fu il primo di una serie di quattro. L'incarnato della ragazza ritratta di tre quarti è chiaro. La giovane, dotata di uno sguardo intenso ed espressivo, possiede una conciatura caratterizzata dai viccioli, dai riflessi luminosi tipici di Dürer. Sono senz'altro da notare l'abito della raffinata ricamatura e la preziosa colana di perle e pietre nere. È interessante, infine, ricordare che quest'opera è rimasta incompiuta. Ciò viene testimoniato dal fiocco sulla spalla destra della fanciulla, che mostra ancora il colore della tavola. Durante questo secondo viaggio, inoltre, Dürer poteva finalmente dedicarsi allo studio delle proporzioni ottimali per il corpo umano. I frutti di tali ricerche, basatesi sull'osservazione diretta della fisionomia umana, possono essere ritrovati nel doppio dipinto ad olio su tavola sul tema del peccato originale, già trattato, peraltro, da Dürer in un'incisione in passato. Il dinamismo delle figure è infatti possibile solo grazie al rifiuto della regola classica delle proporzioni e all'adozione di un approccio più empirico. I personaggi sono ritratti su sfondo oscuro, sopra un suolo roccioso, spoglio, che allude la vita e sofferenze che attenderà i due progenitori cacciati via dall'Eden. Al rientro dall'Italia, Dürer era ormai all'apice della sua carriera. Tale era la sua fama che divenne il pittore ufficiale della corte del sacro romano imperatore Massimiliano I d'Aspurgo. Tuttavia, alla morte di questi, nel 1519, tale incarico non gli fu riconfermato, così Dürer entrò in una crisi di depressione. Questo periodo fu superato grazie ad un avvicinamento al credo protestante, più vicino al suo concetto di fede. L'opera più importante successiva alla conversione è dunque quella sui quattro apostoli. Probabilmente, Dürer la realizzò per difendersi dall'accusa di idolatria, che colpiva all'epoca qualunque pittore. Il dipinto, Olio su tavola, infatti mostra con sobrietà quattro soggetti in carnazione della virtù cristiana. I Santi Giovanni, Pietro, Marco e Paolo. L'estrema espressività facciale, nonché i colori delle vesti, che rimandano ai quattro temperamenti della teoria omorale, sanguigno, flemmatico, collerico e melanconico, anticipano la precisione nella rappresentazione della figura umana e la ricerca della bellezza espressiva tipiche dell'arte nei paesi protestanti. Dürer, ormai già malato da tempo, morì nella sua casa in Orimberga, il 6 aprile 1528, senza aver mai rinnegato la soffede riformata.